salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale oggi voglio proporvi un video tutorial costruiremo insieme un bracciale a fascetta ed un paio di orecchini è un progetto semplicissimo che ho realizzato per una commissione così l'ho improvvisato non so se esista qualcosa di simile e suppongo di sì dato che è una lavorazione veramente molto molto semplice ad ogni modo io il mio l'ho realizzato ha fatto un figurone e poiché mi è stato richiesto ho pensato di condividere con voi il progettino e appunto di lasciarvi il video di questo bracciale realizzerò anche degli orecchini non ho il campione da farvi vedere proprio perché l'ho realizzato ed è andato via quindi vi mostro subito l'occorrente essendo un progetto semplicissimo ci serviranno solo delle roccaie miyuki 11 0 io sto adoperando per questo bracciale la colorazione matte transparent ruby è un filo di cipollotti da 4 millimetri anche questa colorazione diciamo abbinata alle roccaie miyuki successivamente mi serviranno delle monachelle comunque elementi di minuteria compreso la chiusura del bracciale ma è qualcosa che deciderò dopo perché non so ancora se farlo ignorato o in silver quindi considerate il fatto che servirà una chiusura degli anellini eventuali monachella o perni per orecchini a vostro piacere e andiamo subito a realizzare questo grazioso bracciale a fascetta insieme allora ragazzi partiamo infilando sul lago questa sequenza tre cristalli alternati da tre roccaie 11 0 chiudo a cerchio ripassando all'interno della sequenza un filo lunghissimo quindi ci impiego un po e una volta che ripasso effetto qualche modino per chiudere questo modulo quindi faccio un paio di modini uno e due a questo punto nascondo il nodino all'interno del cristallo e taglio l'eccedenza di filo una volta tagliato il filo mi porto ad uscire con l'ago dalla prima roccaia utile quindi la prima che incontro o comunque da una qualsiasi perché rilevante e su questa roccaia aggiungo un cipollotto una roccaia un altro cipollotto un'altra roccaia e un cipollotto in pratica come ho fatto all'inizio solo che io mi ritroverò già una roccaia 11 0 quindi saranno tre cristalli e due roccaie e chiuderò a cerchio quindi rientrerò nella roccaia della quale sto uscendo nello stesso senso per formare quindi un cerchio collago ripasso quindi rientro di nuovo all'interno di cristalli e delle perline appena aggiunte sto ripassando e ho completato il mio giro ho completato il mio giro a questo punto mi sposto sempre nella prima roccaie che incontro quindi una volta completato il giro entrerò dal primo cristallo e dalla prima roccaia e mi fermerò qui tiro bene e aggiungo una nuova sequenza di cristalli e perline come ho fatto poco fa saranno tre cristalli alternati da due perline quindi cristallo perline cristallo perline cristallo perline cristallo perline sto uscendo da questa roccaia io sono lontana della camera quindi non riesco a capire se ho la messa a fuoco sto uscendo da questa roccaia e rientro nella stessa perline nello stesso senso per formare quindi un nuovo cerchietto e lo ripasso nuovamente completo un giro quindi ritorno nella roccaia di partenza tiro bene una volta completato il giro attraverso sempre il primo cristallo ed esco dalla prima roccaia che incontro per fare cosa per aggiungere delle nuove perline e dei nuovi cristalli allo stesso modo noterete che vi troverete ad aggiungere una volta da questo lato e una volta dalla parte opposta si formerà così un zig zag di cristalli e perline è fondamentale fondamentale scusate comprendere la logica di questo passaggio quando faremo questi cerchietti una volta completato il giro io dovrò uscire sempre della prima roccaia quindi in base a come l'ago è orientato una volta mi ritroverò ad uscire a destra chiaramente una volta a sinistra sempre su questa prima roccaia dove io mi troverò ad uscire costruirò un nuovo cerchietto di cristalli di questi tre cristalli quindi per formare questo zig zag la lunghezza dello zig zag sarà in base alla lunghezza del bracciale che noi vogliamo fare quindi proseguiamo così facciamo quest'ultimo passaggio insieme poi continuerò a telecamera spenta perché è qualcosa di semplice devo inserire sempre tre cristalli alternati da due roccaia quindi tre cristalli e due roccaia sto uscendo da questa perlina quindi rientrerò aiuto rientrerò nella stessa perlina nello stesso senso ripasserò e una volta che mi trovo nella perlina di partenza tirerò bene il filo e risalirò dal primo cristallo di incontro mi porterò ad uscire dalla prima roccaie di incontro stavolta sto uscendo quindi a sinistra si comincia a vedere meglio lo zig zag quindi continuiamo così e ci troviamo quando abbiamo raggiunto la lunghezza la lunghezza necessaria per il bracciale mi sono fermata a 27 modulini da 3 cristalli quindi ogni modulino sono 27 modulini e ho fatto attenzione a fermarmi nello stesso senso dell'inizio una volta che mi trovo qui ovviamente come ho fatto per tutto il resto del bracciale sto uscendo dalla prima roccaie in questo caso siccome devo tornare indietro mi metto anche nel cristallo successivo e invece uscirò aspettate che ho ingarbugliato il filo invece uscirò dall'altra roccaie quindi da quella opposta uscirò da questa roccaie qui e andrò ad inserire tre cristalli e due roccaie qui quindi tre cristalli e tre roccaie come sempre alternate alternati da roccaie mius quindi chiudo ripasso all'interno di questa tripletta di cristalli completo il mio giro e mi porto ad uscire dalla prima roccaie quindi attraverso con il come sempre il primo cristallo e la prima roccaie come ho fatto per questa prima fascetta farò anche per questa quindi a questo punto in base a come io mi troverò è un attimino un momento il momento della curva quindi viene complicato tenerlo in mano allora sto uscendo da questa roccaie inserirò sempre i miei tre cristalli qui sul lago quindi cristallo roccaie cristallo roccaie cristallo roccaie cristallo in questo modo e tiro il filo a questo punto come sempre ripasso fino ad arrivare al punto di partenza entro qui ok mi ritrovo nella perlina di partenza attraverso il cristallo mi porto ad uscire quindi dalla prima roccaia non ho badato alla camera poco fa e non so se i passaggi si sono visti avremo modo di ripeterli quindi continuerò a spiegarvi i passaggi fatti perché tanto è un modulino che si ripete inizio sto uscendo da questo lato se andiamo a guardare il zig zag lo zig zag scusate sono così così e adesso devo costruire la mia tripletta a destra quindi andrò ad inserire sull'ago cristallo 3 cristallo 3 cristalli e vero caio li metto qui faccio il giro ripassando mi troverò al punto di partenza qui e stavolta dovrò lavorare verso l'interno quindi mi sposterò su questa perlina una volta che mi trovo su questa perlina sfrutterò quella che mi troverò di fianco quindi in questo spazio inserirò un cristallo e andrò ad aggiungere due cristalli e solo una roccaie guardate una roccaie quella dalla quale stiamo uscendo una l'abbiamo trovata qui l'abbiamo trovata qui l'abbiamo cattiva e la presa in prestito, facciamo così, lo spiego in questo modo, dal modulino precedente e quindi mi mancano due cristalli per completare la tripletta, chiaramente questi due cristalli saranno alternati da una perlina, avrò di nuovo il mio modulino, lo ripasso, quindi ripasso nel cristallo, nella perlina, fino a completare il giro, aiuto, ho scivolato l'ago, ho urtato la camera, scusatemi. E una volta che mi trovo dal punto di partenza, stavolta faccio sempre il giro, non è come prima che si usciva dal primo cristallo, dalla prima roccaia che incontravo, ma stavolta uscirò dalla seconda. Quindi questi modulini si andranno a chiudere su se stessi, questo zig zag convergerà sempre sull'altro e quindi andrò a baciare le due creazioni utilizzando la perlina di mezzo ogni volta che mi troverò ad aggiungere la tripletta verso sinistra, quindi verso destra, come adesso sarò libera. Inserirò normalmente i tre cristalli alternati dalle perline, uscirò dalla perlina interna e utilizzerò sempre la perlina che mi ritroverò di fronte, quindi aggiungerò un cristallo fra perlina e perlina e poi due cristalli alternati da una perlina per rimettermi di nuovo nella perlina dalla quale uscivo. Penso che è sistematico e logico come movimento, come schema. credo quindi che possiamo proseguire da soli fino a completare la lunghezza del bracciale e ovviamente ci troviamo dopo per lo step successivo. Ho completato tutta la lunghezza del mio bracciale, come potete notare ho cambiato anche i cristalli perché ad un certo punto mi sono detta che come colore era un po' troppo piatto, quindi ho pensato bene di unire tre nuanze di rosso, compreso anche qualche chicco trasparente, come potete vedere, li ho mischiati insieme e li ho presi casuali, quindi così con casualità i colori si sono disposti in questo modo. Una volta che ho terminato la lunghezza del bracciale devo andare a costruire la chiusura. Per la chiusura costruirò dei modulini simili a quelli che abbiamo fatto. Il bracciale, come potete notare, ha 27, è ancora piccolo, ma è voluto perché appunto dovevo ancora completare il modulino. Allora sto uscendo da questa roccaje miu che ho completato il giro e mi porta ad uscire da una delle due estremità. In questo caso ho lavorato su questo lato, quindi mi ritroverò su questa roccaje. E qui aggiungerò, normalmente, essendo, e sto lavorando all'esterno, i tre cristalli alternati dalle tre roccaje miyuki. Mi metto sempre nella stessa roccaje, stesso senso, al solito ripasso. E mi sono portata al punto di partenza. Stavolta, una volta che sono qui di nuovo nella roccaje di partenza, scendo nella tripletta sottostante, in questo modo. E mi sposto nella tripletta adiacente attraverso questo spazio. Non tiro il filo, ma utilizzo proprio questo spazio, approfittando della vicinanza fra le due triplette. Non mi occorre stringere, non serve. Qui ho un attimino lasciato il filo, lo recupero. Quindi sono passata nell'altro modulino, nell'altra tripletta, e faccio la stessa identica cosa. Mi porto prima ad uscire con l'ago. Aspettate un attimo. Mi porto prima ad uscire con l'ago da questa perlina. E qui andrò ad aggiungere, come ho fatto lì in maniera speculare però, andrò ad aggiungere qui la mia tripletta nuova. Quindi inserisco sull'ago sempre i miei tre cristalli con le due roccaie. E ripasso. E mi porto ad uscire dalla roccaie dopo il cristallo, in questo modo. Stavolta sfrutterò la vicinanza fra questi due cristalli e la mia tripletta la inserirò in questo modo. Metterò i due cristalli, quindi i roccaie, i due cristalli e una qui nella parte centrale, in questo modo. Vi mostro la sequenza. Sto uscendo da questa roccaie e metto sull'ago due cristalli alternati da una roccaie. Quindi uno. Due cristalli alternati da due roccaie che si disporranno qui fra queste due roccaie. E per avvicinare queste due roccaie e completare la mia tripletta aggiungerò invece un cristallo in mezzo. Così. Ovviamente ripasso. Ripasso. Stringo bene questa parte qui. mi porterò ad uscire con l'ago stavolta nella perlina di punta. Da questa. Quindi il modulino sarà composto da cinque cristalli interni e non da sei come abbiamo fatto prima. quindi una volta che usciamo da questa roccaie aggiungiamo sull'ago quattro roccaie per formare la soletta alla quale poi attaccheremo la nostra chiusura quindi anellini moschettoni e quant'altro. La ripassiamo un paio di volte. bene prima di spiegarvi i passaggi successivi vi mostro cosa andremo a fare. Allora quello che abbiamo costruito qui compreso la soletta dovremmo farlo anche in questa estremità sull'altra estremità. Quindi che cosa faccio? Completato il giro del ripasso mi porto con l'ago verso il basso della lavorazione. In questo primo spazio solo nella parte che noi abbiamo aggiunto adesso faremo questa cosa qui vado ad aggiungere delle 15 zero che non vi avevo elencato tra l'altro all'inizio perché che è qualcosa che sto valutando adesso e che non avevo messo in effetti nel primo bracciale che ho realizzato. Mi accorgo però che effettivamente stabilizza bene la parte finale del modulino dato che l'abbiamo fatto con una tripletta in meno. Quindi questo spazio che rimane è diverso da quello che abbiamo tra gli altri cristalli e con queste perline 15 zero rimane un po' più fermo. Quindi scendo verso il basso in questo primo spazio vado ad aggiungere una roccaie 15 zero attraverso normalmente verso il basso la sequenza di cristalli e quando mi ritroverò qui nella parte dove non c'è una roccaie vado ad inserire questa 15 zero come vi vi dicevo adesso invece non inseriremo nulla e andrò a spostarmi verso l'altra estremità della lavorazione quindi verso il basso semplicemente passando all'interno di tutti questi cristalli senza tirare il filo ovviamente la lavorazione si stabilizzerà da sé io devo solo passare all'interno di tutti questi cristalli perline così per come le incontro senza aggiungere nulla il mio obiettivo sarà quello di portarmi ad uscire da questa perlina qui per costruire di nuovo la tripletta poi spostarmi nell'altra costruire l'altra tripletta e poi completare con la tripletta di punta e l'asola come abbiamo fatto esattamente prima quindi ritengo opportuno farvelo vedere di nuovo mi sposto nella parte estrema costruisco tutto e ovviamente prima di spostarmi poi a ripassare con l'ago la parte laterale per riportarmi poi qui aggiungerò sempre le perline nel modulino come ho fatto da questo lato è un lavoro di completamento è un lavoro di stabilizzazione del modulino perché con questo filo i cristalli saranno molto più fermi quindi ci vediamo dopo e poi cominciamo la parte inerente agli orecchini guardate ragazzi il bracciale è completo finito devo solo ultimarlo con un moschettone o una chiusura vedremo quindi adesso passiamo a realizzare gli orecchini che riporteranno chiaramente gli stessi materiali e cominciamo subito per gli orecchini bisogna infilare sull'ago cinque cristalli chiudere a cerchio così come abbiamo fatto per il bracciale stavolta sono modulini da cinque cristalli senza utilizzare le roccaie ripasso e annodo come sempre per il un periodo a upidano Grazie. Esco da uno dei cristalli e stavolta aggiungo 4 cristalli sul lago. 1, 2, 3 e 4. E lì mi rimetto con l'ago di nuovo dal cristallo del quale sto uscendo. Ripasso. E con l'ago fuoriesco dal secondo cristallo successivo. In questo modo perché creerò un cerchietto con questi modulini che andrà a restringersi. Di conseguenza io legherò i modulini lasciando sempre un cristallo in mezzo. Quindi questi due modulini sono legati lasciando questo cristallo di mezzo. Devo creare in tutto 8 modulini per collegarmi a quello iniziale. Altri 4 cristalli sul lago. Mi rimetto sempre del cristallo del quale esco. E chiudo a cerchio. Ripasso. Ripasso. Grazie. Ed esco da questo cristallo. Fra quello di collegamento e questo del quale sto uscendo c'è sempre un cristallo di mezzo. Quindi sempre nuovi 4 cristalli sul lago per formare questo cerchio di modulini. All'ottavo ci troviamo, vi spiego come collegarlo e congiungerlo con questo. Sono arrivata all'ottavo modulino. Sfruttando questi due cristalli ne vado a mettere uno nella parte sottostante e due superiori per completare il giro. E a questo punto ripasso. Una volta fatto questo andremo ad inserire una perla nella parte centrale di questo modulino. Quindi mi fermo da un cristallo a caso. Prendo una perla da 6 mm. E la metto giù. Io mi trovo da destra. Nella parte destra sto scendendo giù. Ed entro in corrispondenza a sinistra. Quindi nella parte sottostante della perla, in corrispondenza del foro, risalgo, ma verso sinistra. Per uscire, sempre in corrispondenza del foro, nella parte superiore. Stavolta sto uscendo da sinistra, sinistra verso destra. Scendo. Ed entro da sinistra verso destra per salire su. Rifaccio questo passaggio per due volte. Quindi ripasso di nuovo all'interno della perla e del modulino. Vado giù. E risalgo su da questo lato. E risalgo su da questo lato. Vado giù. E risalgo. In corrispondenza del foro, si verrà a creare uno spazio un po' più larghetto. E qui andrò ad inserire una locale. E farò la stessa cosa dall'altra parte. Sentenza del foro. Che ikke siistra per la sitza. Per il rispondenza del foro, si vede la vista del foro. Lata per la cattenzione del foro. E rispondenza del foro. Il rispondenza del foro. eu nedo. 하고 il rispondenza del foro pipe. completando il giro mi posso portare nuovamente nella parte esterna del modulino salendo seguendo i cristalli in questo modo disporrò la mia perla in base ai fori così in orizzontale quindi questo e questo saranno le parti dove io ci aggancerò il perno nella parte sottostante qui in questi spazi faccio un giro inserendo delle roccaie proprio qui dove ci sono questi spazi una volta che abbiamo riempito gli spazi quindi come vi anticipavo utilizzeremo la perlina opposta ai fori quindi disponendo la perla in maniera verticale quella subito su inseriamo quattro roccaie nel lago e formiamo un cappietto dove andremo a posizionare il perno facciamo qualche giro a questo punto potrò tagliare il filo dopo che lo hanno dato all'interno della lavorazione prima di fare questo voglio mostrarvi già l'orecchino completo in modo che vi risparmio minuti inutili facendo questa cosa qui andrò a mettere il perno utilizzando un anellino vi faccio vedere come ho ultimato il bracciale il bracciale l'ho rifinito con una chiusura a calamita quindi ho adoperato degli anellini per i cappietti finali e poi l'ho ho montato questa chiusura e nella parte centrale ho messo una perla da quattro millimetri giusto per richiamare così lo schema del dell'orecchino bene il tutorial è finito spero che vi sia piaciuto ci troviamo al prossimo ciao